Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 12 dove a causa di lavori si registrano code tra Carrare e Versilia verso Livorno. In Fipili a causa di lavori due chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna verso Firenze e un chilometro invece in direzione Livorno. In A1 a causa del traffico intenso rallentamenti tra Calenzano VI Fiorentino e il Bivio con la variante del Valico in direzione Bologna. Ancora in A1 si ricorda che a causa di lavori fino alle 18 di oggi rimarranno chiusi i tratti tra Aglio e Roncovilaccio in direzione Bologna e tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Cantieri di Firenze fino al 4 giugno per lavori di messa in sicurezza del guardrail rimarranno chiuse le rampe in entrate e in uscita di viadotto Marco Polo lato Viale Europa via Pian di Ripoli. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!